La morte del migrante 48enne in un casolare abbandonato alla periferia di Andrea riporta all'attenzione delle istituzioni un problema in realtà mai affrontato realmente e con cognizione di causa come quello dell'immigrazione. Al di là delle posizioni politiche, infatti c'è chi lavora ogni giorno per salvaguardare la vita di tutti, compresi gli ultimissimi, come purtroppo sono considerati spesso i migranti. Parola a Don Jeremiacri, responsabile di Casa Accoglienza Santa Maria Goretti, a cui non si era rivolto l'uomo deceduto ieri pomeriggio, ma che continua ad offrire servizi e assistenza senza distinzione a chi ne ha bisogno. Per Don Jeremiacri restano le domande e i perché di una morte, che è solo la punta dell'iceberg di un problema che le istituzioni al momento non vogliono realmente affrontare. Io parlo dell'esperienza della nostra città di Andrea e da vent'anni questo fenomeno che si ripete, da vent'anni non sono stati creati servizi per l'accoglienza dei migranti? Questo periodo della raccolta delle olive arriva diversa manodopera per raccogliere. Allora io mi chiedo, nel piano regionale delle immigrazioni, nel piano locale, luoghi per l'accoglienza, docce, punti informativi, mediatori culturali, presidi medici, dove sono? Logicamente se questa gente lavora, queste persone lavorano e tu offri un servizio, possono benissimo contribuire, altrimenti esisteremo questi fatti di cronaca, che una persona è morta, non sappiamo per quali cause, se è naturale o per assideramento. Si grida lo scandalo, poi tante persone che urlano e puntano il dito verso le istituzioni, verso il prete, dove eravate, che schifo. E allora io mi chiedo, e tu che scrivi, dove eri? La carità, la solidarietà non la si può delegare, la si fa in prima persona. Però quello che dico ancora è da vent'anni questo fenomeno, o lo prendiamo sul serio o governiamo, perché non conosco bene bene questa persona, ma sicuramente era presente sul territorio da tanti anni. Ora, se aveva diritto di restare, va bene, perché vive in quella casa abbandonata, ha fatto una scelta personale, libera e bisogna rispettarla. Era un clandestino irregolare perché non è stato mai riaccompagnato a casa. Allora, il fenomeno migratorio va governato, se vogliamo vivere nella bellezza della città, nella sicurezza del nostro paese e via di seguito. Altrimenti assisteremo, faremo il piantino, io con i volontari saremo presi da salti dalla mattina alla sera, anche alle notti, per le telefonate, ma resterà così. Un altro uomo è morto e ogni volta che muore un uomo, muore una parte di me, una parte nostra.